Grazie Presidente, viceversa è per motivare il voto contrario di Fratelli d'Italia, avevamo già tentato di spiegarlo in sede di discussione generale, a questo accordo che non è che uno dei tanti accordi fotocopia, sfido chiunque a dirmi il contrario, che si fanno in ambito di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con tutti i Paesi del mondo che noi andiamo a visitare. Ogni tanto si forma uno di questi accordi, giuridicamente poco obbligante, però è pur vero che un accordo di questo tipo rappresenta evidentemente la postura internazionale dell'Italia, rappresenta la volontà dell'Italia di avere un rapporto rafforzato con il Paese in questione, e allora in sede di discussione generale avevamo posto, nella speranza che qualcuno ci ascoltasse, alcuni elementi di criticità a rappresentare la posizione dell'Italia nel mondo come un Paese che vuole avere un rapporto a doppio mandato, rafforzato, intenso con la Repubblica chirghisa. Noi ci obblichiamo a cooperare nel campo della cultura, nel campo dell'arte, a promuovere splendide pratiche nelle istituzioni scolastiche con il Kyrgyzstan, ma nessuno di noi in questo accordo di cooperazione ha avuto il coraggio di chiedere, di porre l'accento sulla tutela della libertà religiosa delle minoranze, in particolar modo dei cristiani che rappresentano il 5% della popolazione. Noi siamo stanchi di approvare stancamente e retoricamente questi accordi internazionali che costituiscono il vestito con cui l'Italia sta al mondo, con Paesi, come avevo ricordato nella discussione, dove la donna Satil Badeia di 76 anni per essere seppellita è stata seppellita tre volte, disseppellita tre volte, buttata nell'immondizia e finalmente seppellita in un luogo ignoto e oscuro perché se sapessero dov'è la vanno nuovamente a disseppellire perché era un'islamica convertita al cristianesimo. O ancora, spiace che questo emiciclo popolato da femministe ogni qualvolta un uomo si sbagli a fare una battuta al bar si dimentichi che le nostre commissioni territoriali, non ultima nel 2019, prima sezione di Napoli, le commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo politico dicano nei documenti ufficiali dello Stato italiano, conferiscano asilo politico alle donne del Kirzikistan, della Repubblica Kirghisa, dicendo testualmente che le dichiarazioni rese dalla donna risultano esternamente coerenti con le informazioni in possesso di questa commissione sul paese d'origine dell'interessata, la Repubblica Kirghisa, i quali attestano che ad oggi la donna vive complessivamente in una condizione di inferiorità in Kirghisistan. Ebbene, maestre, professoresse del femminismo occidentale, per quale motivo non osate balbettare niente all'interno di questo accordo sui diritti alla parità di genere, sui diritti delle donne? Eppure è il documento dello Stato italiano che ci dice che diamo asilo politico a tutte le donne della Repubblica Kirghisa perché le donne vivono in condizioni di privazione dei più elementari diritti. Sempre nel documento delle sentenze con le quali viene conferito il diritto di asilo politico si dice che c'è la pratica dei matrimoni forzati. Si dice ancora, sempre nelle sentenze dello Stato italiano, che nella Repubblica Kirghisa si rapiscono le donne per costringerli a matrimoni forzati religiosi. Però non una voce in quest'aula si è levata a dire perché vogliamo cooperare con questa gente senza porre il tema della libertà religiosa, della libertà delle donne. O il tema della libertà delle donne non è la difesa delle donne, ma è quel femminismo che si usa come clava politica sull'avversario perché si deve costruire la narrazione interna all'Italia e non si osa balbettare nulla nei confronti di nazioni per i quali il nostro Stato, le sentenze del nostro Stato dicono che si fanno i matrimoni forzati e si rapiscono le donne per costringerli ai matrimoni forzati. Siamo stanchi di approvare banalmente, retoricamente, con quella banalità del male di cui avrebbe parlato un'autrice del Novecento. Stanchissimi accordi di cooperazione, uno fotocopie uguale all'altro e farlo senza balbettare nulla sulla libertà religiosa dei nostri fratelli cristiani che vengono trattati come delle bestie e delle donne che hanno la libertà di sposarsi con chi vogliono anche in Kyrgyzstan. Approvare stancamente questo accordo di cooperazione dove si parla di siposi culturali internazionali vuole dire voltare la testa dall'altra parte e fratelli d'Italia la testa dall'altra parte quando si tratta di diritti veri e calpestati delle donne ed è il diritto più intimo dell'uomo, quella della libertà religiosa, nella fattispecie dei nostri fratelli cristiani traditi in quelle terre, non lo farà mai più. Non volteremo la testa dall'altra parte e voltiamo fuori.